Din-don-dan, din-don-dan, margherita va nella neve a cercare cibo per Natal. Din-don-dan, din-din-don-dan, il forno è pronto già, panettone e pandoro in grande quantità. Margherita e Timi attendono così l'arrivo dei amici per festeggiare insieme. Il Natale che a tutti porterà tanti bei regali ed una gran felicità. Ciao margherita, ti piace stare sull'altalena eh? Questa cucina parco giochi è davvero bellissima, guardiamo che cosa c'è, quello è uno scivolo, un tavolo rotondo che ruota dove possiamo cucinare e guardate, quella è una lavagna. Ma sembra che ci sia scritto qualcosa, crema di cioccolato, farina, sono solo due ingredienti, se ne trovassimo almeno un terzo forse potremmo cucinare qualcosa, andiamo a cercare. Qui sul tavolo non c'è niente, dentro al forno? No, nemmeno, e dentro al frigorifero un uovo, crema di cioccolato, farina e uova. Margherita, possiamo cucinare dei biscotti? Bene, cominciamo. Prendiamo una ciotola e uniamo la crema di cioccolato con la farina. Adesso che la farina è stata assorbita dalla crema di cioccolato, aggiungiamo l'uovo. Se mescoliamo con il cucchiaio, verrà benissimo. Wow! Margherita, di che forma li vogliamo fare i biscotti? Andiamo a cercare qualche stampino? Eccoli! Quali prendiamo? Una macchinina, un triangolo e un albero di Natale. Sì, prendiamo l'albero di Natale. Così saranno dei biscotti perfetti per le feste. Stendiamo la pasta e premiamo bene lo stampino. Ora inforniamo la teglia. Ecco fatto! È bellissimo! Zucchero a velo? Brava Margherita! Sembra neve! Ora sì che sono dei biscotti di Natale! Sei davvero una brava cuoca! Alla prossima ricetta! Sarà gustosissima! Ciao! Ci vediamo alla prossima puntata! Ciao! Grazie a tutti.